Bottega delle meraviglie di Cider Grun, l'esse l'elegante straniero che si era fermato e indeciso sul marciapiede della Jodem Bräe Strat. Era una scritta bizzarra, a caratteri bianchi con vistosi svolazzi, sull'insegna nera del negozio dall'altra parte della strada, nell'edificio d'angolo. E' incuriosito, o forse per sottrarsi alla folla, che col goffo malgarbo tipico degli olandesi, gli si accalcava intorno facendo commenti sulla finanziera, sul cilindro lucido e sui guanti, tutte rarità per quel quartiere di Amsterdam. Attraversò, passando tra carri di verdura, trainati da cani, e seguito da due monelli che, le mani affondate nelle tasche dei calzoni di tela blu, larghi e informi, la schiena curva, la pancia in dentro e il sedere basso, con sottili fischietti di gesso, infilati nel nodo del fazzoletto rosso intorno al collo, gli andavano dietro pigri e silenziosi, trascinando gli zoccoli. Il negozio Cidergrun finiva con una lunga vetrata sporgente, che correva tutto intorno, a destra e a sinistra, entrando nei due vicoli paralleli. A giudicare dalle finestre scure e senza vita, quell'edificio poteva sembrare un magazzino. Sul retro, andava probabilmente su una gracht, una delle numerose vie d'acqua destinate al traffico commerciale. Bassa e a forma di cubo, la costruzione somigliava alla cima di una cupa torre a pianta quadrangolare, che fosse andata sprofondando, anno dopo anno, nel soffice terreno ricco di torba, fino al limite del suo collare di pietra, l'attuale vetrata. Al centro della vetrina, su un piedistallo rivestito di panno rosso, campeggiava un teschio di cartapesta giallo scuro. Aveva un aspetto innaturale. La mascella sotto le narici era troppo lunga, mentre le orbite e le ombre intorno alle tempie erano state scurite con l'inchiostro di china e stringeva fra i denti un asso di picche. Sulla carta era scritto «Het del fish oracle, of the stem with et gesteric». L'oracolo di Delphi, ovvero la voce dell'aldilà. Grossi anelli di ottone, allacciati l'un l'altro come maglie di una catena, pendevano dal soffitto, reggendo d'irlande di cartoline dai colori sgargianti, che raffiguravano visi di suocere coperti di verruche con le labbra serrate da lucchetti, o mogli malvagie e minacciose con la scopa in mano. Confuse fra queste, si scorgevano altre piccole immagini dei colori traslucidi, giovani prosperose in camicetta, che stringevano pudicamente la pettorina, e sotto la didascalia, «Tegen et l'ichtbekegen, four gourmands», da guardare contro luce, per intenditori. C'erano le manette chiamate «Il famoso otto di Hamburgo», e accanto i libri dei sogni egizi disposti in fila, cimici e scarafaggi finti da gettare nella birra del vicino all'osteria, alette nasali mobili di gomma, bottiglie di vetro a forma di lambicco contenenti un liquido rossastro, il prezioso termometro dell'amore, ovvero l'irresistibile Casanova accanto alla sua dama. Bussolotti, recipienti con monettine finte, il terrore dello scompartimento, un sistema infallibile per allacciare relazioni stabili durante viaggi in treno, a uso dei commessi viaggiatori, consistente in zanne di lupo da fissarsi sotto i baffi. Infine, sopra tutto questo ben di Dio, dallo sfondo nero e opaco, spuntava con un gesto benedicente, una mano femminile di cera ornata da un polsino di pizzo fatto con la carta. Più per sfuggire al tanfo di pesce dei suoi due giovani accompagnatori, che per desiderio di fare acquisti, lo straniero entrò nel negozio. In un angolo, seduto in poltrona, il piede sinistro in una scarpa arabescata appoggiato sulla coscia destra, un cavaliere dalla pelle scura, con le guance violacee rasate di fresco e i capelli impomatati, un volto dai tratti balcanici, era intento a leggere il giornale. Lanciò allo straniero uno sguardo sarcastico e indagatore, mentre nel divisorio ad altezza d'uomo che separava il locale dal retro bottega, uno sportello si abbassava con fracasso, mostrando il busto di una signorina in abito scollato, dai seducenti occhi celesti e con i capelli biondi alla maschietta. Dalla strana pronuncia e dall'olandese zoppicante, comprare non importa cosa, qualcosa. Si era subito resa conto di avere di fronte un connazionale, un austriaco, sicché cominciò a descrivere in tedesco un gioco di prestigio con tre turaccioli che aveva prontamente estratto. Impiegava il suo charme femminile, ormai collaudato in tutte le possibili variazioni. Protendeva i seni verso l'interlocutore o sprigionava, con discrezione quasi telepatica, il profumo della sua pelle e allo scopo otteneva i migliori risultati sollevando di tanto in tanto le braccia. «Caro signore, ecco qui tre turaccioli, giusto?» Metto il primo e il secondo nella mano destra, poi la chiudo, così. Il terzo lo infilo in tasca, sorrise arrossendo. «Quanti ne ho in mano?» «Due.» «No, tre.» Era vero. «Questo gioco di prestigio si chiama i turaccioli volanti e costa solo due fiorini, caro signore.» «Bello, mi spieghi il trucco, la prego.» «Posso chiederle prima i soldi, caro signore?» «Sa, è la consuetudine del negozio.» Lo straniero mise i due fiorini sul banco e in cambio ottenne di rivedere il gioco, che si basava esclusivamente sull'abilità delle mani. Quindi fu avvolto da nuove ondate di fragranza femminile e infine ricevette quattro turaccioni, che intascò pieno di ammirazione per il talento commerciale della ditta Cidergrun e con la certezza che non sarebbe mai riuscito a ripetere il trucco. «Ecco, signore, tre anelli di ferro da tendine.» Ricominciò la giovane. «Metto il primo?» Qui la dimostrazione fu interrotta da alte grida e fischi acuti che giungevano dalla strada, proprio mentre la porta del negozio veniva spalancata con irruenza e subito richiusa in un tintinnio di vetri. Spaventato, lo straniero si voltò e vide una figura il cui aspetto singolare lo lasciò di stucco. Si trattava di un gigantesco zulù dalla barba nera e crespa e le labbra tumide. Indossava soltanto un impermeabile a scacchi. Aveva un collare rosso e i capelli intrisi di grasso di montone spazzolati all'insù. Sicché sembrava portare in testa una scodella d'evano e in mano teneva una lancia. L'uomo dai tratti balcanici si alzò di scatto dalla poltrona, fece al selvaggio un profondo inchino, gli prese servizievole la lancia e la infilò in un portaombrelli. Poi, scostando una tenda con un gesto cortese, lo invitò ad entrare nel locale attiguo dicendogli con tono garbato «Al stube lift ma in here ho gott ma in here». «Prego, signore». «Come sta, signore?» «La prego, entri», disse la signorina allo straniero aprendo il divisorio e si accomodi finché la folla non si sarà calmata. Poi, corse alla porta a vetri, qualcuno l'aveva di nuovo spalancata e spinse fuori un tipo tracchiato che se ne stava sulla soglia a gambe larghe lanciando sputi ad arco nel negozio. Lo investì con una sequela di imprecazioni «Stick, Verrec, Godverdomme, Valdod, Stech de Mord». «Soffoca, crepa, Dio ti maledica, che tu sia fulminato, muori!» e tirò il chiavistello. Lo straniero era, nel frattempo, passato nel retro bottega, un locale suddiviso da armadi e pesanti tende turche, con poltrone e sgabelli agli angoli. Al centro, sotto un lume da moschea percorso da elettricità, sedevano a un tavolo rotondo due signori attempati e corpulenti, di certo commercianti olandesi o di Hamburgo, e guardavano con bramosa attenzione dentro certe scatolette che, a giudicare dal ronzio, dovevano essere piccoli apparecchi cinematografici. In fondo, ad un buio corridoio creato dagli scaffali cui erano riposte le merci, si scorgeva un piccolo ufficio con le finestre di vetro opalino che davano sul vicolo laterale. Lì, un vecchio ebreo incaffettano con le sembianze di un profeta, la lunga barba bianca e i cernecchi che gli scendevano dalle tempie, una chippa di seta e il volto completamente in ombra se ne stava immobile davanti a uno scrittoio e annotava qualcosa su un libro mastro. Dica, signorina, chi era quello strano negro di poco fa? Chiese lo straniero quando la commessa ritornò per continuare la dimostrazione coi tre anelli. Quello? Oh, si tratta di un certo mister Usibepo, è un'attrazione del Circo Carré, fa parte del gruppo di Zulu che vi lavorano. Un signore davvero distinto, aggiunse con occhi raggianti. nella sua terra è Medicine Doctor. Ah, capisco, uno stregone. Sì, uno stregone è qui per imparare qualche trucco più raffinato, così quando tornerà in patria potrà impressionare a dovere i suoi connazionali e magari salirà al trono. il professore di teoria pneumatica e il signor Zitter Arpad di Bratislava gli sta dando lezione proprio ora. Aprì uno spiraio nella tenda permettendo così allo straniero di dare uno sguardo in uno stanzino completamente tapezzato di carte da whist con due pugnali incrociati che gli trafiggevano la gola da parte a parte e un'ascia insanguinata confitta nel cranio l'uomo dal volto balcanico stava inghiottendo proprio in quel momento un uovo di gallina per poi farlo riapparire dietro l'orecchio dello Zulu che senza impermeabile gli stava davanti estrefatto con indosso soltanto una pelle di leopardo. Lo straniero avrebbe voluto continuare a guardare ma la giovane donna si affrettò a lasciar cadere la tenda poiché il professore le aveva lanciato un'occhiata di biasimo e inoltre il telefono squillava stridulo e imperioso. La vita assume un aspetto straordinariamente multiforme se ci si dà la pena di osservarla da vicino girando le spalle alle cosiddette questioni importanti che ci procurano solo dolore e amarezza pensò lo straniero da uno scaffale ingombro di giocattoli da pochi soldi prese una piccola scatola aperta e la annusò distrattamente era piena di minuscole mucche intagliate nel legno e alberelli con la chioma di truccioli tinti di verde per un attimo il tipico profumo di resina e vernice lo inebriò Natale l'infanzia l'attesa ansiosa dietro il buco della serratura una sedia traballante ricoperta di cannetè rosso con le macchie d'unto il volpino come si chiamava ah sì duro del dut rigia sotto il sofà e strappa con un morso la gamba del soldatino ammolla poi con l'occhio sinistro socchiuso viene fuori strisciando indispettito la molla del meccanismo è partita di scatto col pendolo sul muso gli aghi da bete crepitano e le candele rosse che ardono sull'albero hanno lunghe barbe di cera niente richiama in vita il passato quanto il profumo di vernice dei giocattoli di Norimberga lo straniero si riscosse da quella sorta di rapimento i ricordi non portano niente di buono prima tutto sembra andare per il meglio poi un giorno la vita assume improvvisamente il volto di un maestro severo e con una smorfia diabolica e sanguinaria ci no no non voglio si volse verso la libreria girevole che gli stava accanto nient'altro che volumi dal taglio dorato scrollando il capo cominciò a compitare gli strani titoli impressi sul dorso di quei libri che non si adicevano affatto all'ambiente G. Ledinger storia della società corale accademica di Bonn F. Haken elementi per l'insegnamento del tempo e del modo nella lingua greca K. V. non aughe la cura delle morroidi nell'antichità classica grazie a Dio pare non ci siano libri di politica poi tirò fuori il terzo volume dell'opera di Alke Pot l'olio di fegato di merluzzo e la sua crescente popolarità e prese a sfogliarlo la pessima stampa e la carta scadente creavano uno sconcertante contrasto con la rilegatura di lusso che mi sia sbagliato che non si tratti affatto di un inno all'olio rancido lo straniero aprì la prima pagina e lesse divertito biblioteca di Sodoma e Gomorra raccolta di scritti per scapoli impenitenti edizione del giubileo confessione di una studentessa dissoluta proseguimento della famosa opera la lumaca purpurea sembra davvero l'essenza del ventesimo secolo fuori spocchiosa alterigia da eruditi e dentro brama di donne e di denaro mugugnò scoppiando in una risata uno dei due panciuti commercianti scattò in piedi allontanandosi da uno degli apparecchi mentre l'altro l'olandese continuava indisturbato poi mormorò con un certo imbarazzo qualcosa come splendide queste vedute di città e fece per andarsene in tutta fretta sforzandosi di restituire al suo volto cui lo spettacolo appena apprezzato aveva conferito sembianze suine l'abituale aspetto del mercante a modo dai saldi principi morali il diabolico tentatore di tutte le persone per bene però inscenando una maligna coincidenza con l'evidente proposito di fugare ogni dubbio del galantuomo sulla frivolezza del luogo in cui si trovava si permise a questo punto uno scherzo riprovevole infilandosi il cappotto con un movimento troppo brusco il commerciante urtò con la manica il pendolo di un grosso orologio a muro attivandone il meccanismo immediatamente si aprì uno sportellino sul quale erano dipinte intime scenette di vita familiare e invece dell'atteso cucù apparvero la testa di cera e il busto di scinto di una donnina dallo sguardo oltremodo sfacciato che al suono festoso delle campane del mezzogiorno cominciò a cantare con voce rocca i falegnami son proprio temerari piallano o beln piallare ha anche un significato volgare che equivale all'italiano scopare i falegnami son proprio temerari piallano sbelti senza ritegno e liscio il lustro diventa legno 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 e all'improvviso assunse un registro basso gracchiante ripetendosi ritmicamente o il diavolo aveva messo giudizio oppure un capello si era infilato fra gli ingranaggi non volendo non volendo restare vittima di maliziosi coboldi un minuto di più il gran capo dei mari prese largo in tutta fretta con uno sdegnato e piagnucoloso davvero indecente ben ben lo straniero non riusciva a spiegarsi del tutto l'eccessivo turbamento dell'anziano signore finché non cominciò ad affiorare in lui il sospetto di averlo già incontrato da qualche parte forse si erano conosciuti durante un ricevimento per un attimo l'immagine di un'anziana signora da lineamenti tristi e raffinati e di una bella fanciulla gli tornò alla memoria confermando quell'ipotesi ma non ricordava più né il luogo né i nomi non gli fu d'aiuto neanche il viso dell'olandese che in quel momento si alzò e lo squadrò dall'alto in basso con i suoi geli di occhi celesti per poi trascinarsi fuori con indolenza era un emerito sconosciuto dall'aspetto brutale e arrogante la commessa era ancora al telefono a giudicare dalle sue risposte doveva trattarsi di un grosso lavoro per una vigilia di nozze in fondo potrei anche andarmene pensò allo straniero che sto aspettando fu assalito da un senso di stanchezza sbadigliò e si lasciò cadere su una poltrona un pensiero si affacciò alla sua mente con tutte le cose insensate di cui ci circonda il destino è davvero un miracolo che la testa non ci scoppi che nessuno esca di senno e poi perché proviamo un senso di nausea quando i nostri occhi si nutrono di bruttezze per amor di Dio che c'entra la digestione e nemmeno la bruttezza continuò ad almanaccare la nausea colpisce inaspettatamente anche quando ci si trattiene a lungo in una pinacoteca deve essere una qualche malattia da museo di cui i medici non sanno ancora nulla e se invece originasse da quel senso di morte che spira da tutte le cose create dall'uomo siano esse belle o brutte non credo mi sia mai capitato di star male davanti a un vero paesaggio per quanto squallido è così dunque un sapore di cibo in scatola impregna tutto ciò che definiamo oggetto c'è da prendersi lo scorbuto sorrise senza volerlo ricordandosi di un'affermazione stravagante del suo amico il balone Pfeil che gli aveva dato appuntamento quel pomeriggio stesso al caffè De Vergulde Turk e che odiava visceralmente tutto quanto aveva a che fare con la pittura prospettica il peccato il peccato originale non deriva dall'aver mangiato la mela questa è una rozza superstizione è nato invece quando il primo quadro venne appeso in una casa il muratore non ha ancora finito di tirar lisce le tue quattro pareti domestiche che già arriva il diavolo travestito da artista e ti ci dipinge sopra buchi panoramici da qui all'estremo pianto a stridor di denti c'è solo un passo e arriva il giorno in cui ti ritrovi incorniciato in sala da pranzo con le decorazioni e la marsina accanto a Isidoro il bello o a qualche altro idiota con tanto di corona sul cranio a pera e il muso da boto cudo e ti osservi mentre mangi sì sì in qualsiasi occasione si dovrebbe essere pronti a ridere continuò lo straniero seguendo il corso dei suoi pensieri non senza motivo le statue del Buddha sorridono mentre quelle dei santi cristiani sono inondate di lacrime se gli uomini sorridessero più spesso probabilmente ci sarebbero meno guerre e io me ne vado a zonzo per Amsterdam già da tre settimane e di proposito ignoro i nomi delle vie non chiedo cosa sia questo o quell'edificio dove sia diretta questa o quella nave né da dove provenga non leggo i giornali perché non mi si spacci come ultima notizia ciò che è già accaduto millenni fa proprio nell'identico modo abito in una casa dove tutto mi è estraneo sono forse l'unico individuo davvero privato che io conosca da tempo quando mi capita qualcosa sotto gli occhi non cerco più di scoprire a cosa serve non serve affatto si fa solo servire e perché faccio tutto questo perché ne ho abbastanza di recitare sempre la solita solita solfa culturale prima la pace per preparare la guerra poi la guerra per riconquistare la pace e così via e perché come Caspar Hauser voglio vedere davanti a me una nuova terra inesplorata e conoscere un nuovo stupore simile a quello che proverebbe un neonato ritrovandosi improvvisamente adulto perché voglio essere un punto a fine frase e non restare una virgola in eterno rinuncio all'eredità spirituale dei miei antenati a favore dello stato e preferisco imparare a guardare vecchie forme con occhi nuovi piuttosto che come ho fatto finora forme nuove con occhi vecchi forse così acquisteranno eterna giovinezza il mio inizio è stato buono ora devo solo imparare a sorridere di tutto e non semplicemente a stupirmene nulla fa un effetto soporifero pari a quello di un mormorio il cui senso sfugge all'orecchio la conversazione che si svolgeva di là dalla tenda un bisbiglio concitato fra l'uomo dal volto balcanico e lo zulu stordiva lo straniero con il suo flusso continuo monotono e ipnotico al punto che questi si assopì per un momento quando poco dopo si riprese ebbe la sensazione di aver ricevuto una sconvolgente quantità di rivelazioni ma nella sua mente era rimasta come quintessenza un'unica frase lapidaria una fantastica concatenazione di impressioni appena ricevute e di pensieri in continuo sviluppo raggiungere il sorriso eterno è più difficile che scovare fra le migliaia di tombe su questa terra il teschio portato sulle spalle in una precedente vita l'uomo dovrà aver pianto tutte le sue vecchie lacrime prima di poter osservare il mondo con occhi nuovi sorridendo e seppure è davvero difficile il teschio lo si cerca e come? lo straniero continuava a ostinarsi in questa idea chimerica nella ferrea convinzione di essere del tutto sveglio mentre in realtà era di nuovo sprofondato nel sonno costringerò le cose a parlarmi in tedesco e a rivelarmi il loro vero significato in un nuovo alfabeto anziché lasciare come prima che mi sussurrino all'orecchio con tono di sufficienza vecchi ritornelli del tipo guarda bene sono un farmaco e ti guarisco quando hai crapulato oppure do piaceri alla tua gola crapula pure e ricorri un'altra volta al farmaco a poco a poco ho scoperto una cosa buffa tutto si morde la coda come dice il mio amico Faye e se la vita non è in grado di impartire insegnamenti più saggi me ne andrò nel deserto a nutrirmi di cavallette e di miele selvatico lei vuole andare nel deserto a imparare l'essenza della magia ma ahimè è così stolto da pagare in argento sonante uno stupido gioco di prestigio con i turaccioli da non riuscire quasi a distinguere una bottega delle meraviglie dal mondo reale e da non intuire neppure lontanamente che nei libri della vita c'è qualcosa di diverso da ciò che è stampato sul dorso lei dovrebbe chiamarsi Grun non io Grun oltre che verde significa anche inesperto immaturo lo straniero aveva udito d'un tratto una voce profonda vibrante fareco alle sue lucubrazioni e quando sollevò sorpreso lo sguardo il vecchio ebreo il proprietario del negozio era lì in piedi e lo fissava lo straniero si spaventò mai aveva visto un volto come quello che gli stava di fronte era privo di rughe con una fascia nera sulla fronte e tuttavia aveva solchi profondi così come il mare a alte onde pur senza essere increspato gli occhi incassati quanto scure voragini erano malgrado ciò gli occhi di un uomo non mere cavità il colore della pelle tendeva al verde oliva e aveva riflessi bronzei così doveva essere la pelle degli uomini preistorici che si diceva avesse il colore dell'oro verde scuro io sono su questa terra continuò l'ebreo da quando la luna la vagabonda percorre il cerchio del cielo ho visto uomini che erano scimmie e tenevano in mano asce di pietra dal legno venivano e al legno facevano ritorno esitò un attimo dalla culla alla bara e sono ancora scimmie e tra le mani stringono ancora asce guardano in basso e vogliono esplorare l'infinito che si cena in quel che è piccolo hanno scoperto che nel ventre dei vermi vivono milioni di minuscole creature le quali a loro volta ne ospitano altri miliardi ma continuano a ignorare il fatto che in tal modo non ci sarà mai fine io sono colui che affissa lo sguardo al basso e all'alto il pianto l'ho scordato ma non ho ancora imparato a sorridere il diluvio universale ha inumidito i miei piedi ma non ho mai conosciuto nessuno che avesse motivo di sorridere può anche darsi che non l'abbia notato e che passando gli accanto abbia tirato dritto ora è un mare di sangue allambirmi i piedi e proprio adesso dovrebbe presentarsi uno a cui è dato sorridere non credo proprio è più probabile che dal fuoco sgorghi l'acqua lo straniero si calò il cilindro sugli occhi per non vedere oltre quel volto terribile che penetrava e corrodeva sempre più a fondo tutti i suoi sensi e gli toglieva il respiro sicché non si accorse che l'ebreo era tornato allo scrittoio mentre la commessa aveva ripreso il suo posto in punta di piedi aveva tirato fuori dall'armadio un teschio di cartapesta simile a quello in vetrina e senza far rumore l'aveva sistemato su uno sgabello da un tratto il cappello gli scivola dal capo e cadde a terra la commessa lo raccolse con una mossa tanto repentina che lo straniero non poté nemmeno allungare la mano e subito iniziò una delle sue dimostrazioni ecco qui caro signore il cosiddetto oracolo di Delphi per mezzo suo siamo sempre in grado di gettare uno sguardo al futuro o addirittura di ricevere risposte a domande che da tempo sonnecchiano nel nostro cuore per una ragione ignota si guardò nella scollatura la prego formuli mentalmente una domanda sì sì d'accordo mugugnò lo straniero ancora frastornato guardi il teschio si sta già muovendo il cranio aprì lentamente la bocca masticò un paio di volte sputò fuori un rotolino di carta che la signorina si affrettò a raccogliere e a dispiegare poi batte i denti come liberato il desiderio che hai nel cuore mai si realizzerà avanza con decisione rimpiazza i desideri con la volontà era scritto sulla strisciolina con inchiostro rosso o era sangue peccato che non ricordi nemmeno la domanda pensò lo straniero e quanto costa venti fiorini signore bene ecco qua lo straniero riflettè se portar via subito il teschio no non posso per strada mi prenderebbero per amleto per favore me lo faccia recapitare a casa ecco i soldi senza volerlo lanciò un'occhiata all'ufficio accanto alla finestra il vecchio ebreo stava davanti al suo scrittoio in un'immobilità sospetta come se per tutto il tempo non avesse fatto altro che registrare cifre nel libro mastro poi lo straniero scrisse il suo nome e l'indirizzo sul blocco che la commessa gli porgeva Fortunat Auberisse ingegnere Hoigracht numero 47 e ancora un po' frastornato uscì dalla bottega delle meraviglie in un po'